Buon Natale a tutti, buona vigilia, buona vigilia, buoni festeggiamenti con i parenti, mi raccomando divertitevi E se no che Natale c'è solo una volta all'anno e spero che trovate delle belle cose nei regali, ciò che avete chiesto e quindi spero che siate contenti di questo Natale che è passato Anche se ancora non è passato perché dovrei caricare il video verso le 7-8 quindi per voi ancora non è passato diciamo così, se lo vedete appunto quando esce Comunque a parte ste cavolate di perdite di tempo, oggi ragazzi tecnicamente quando registro questo video è il 24 quindi tecnicamente il 24 è il giorno in cui compio un anno su Youtube Infatti il 24-12-2015 ho creato il canale che ora appunto state guardando il video quindi Drake Clan Anche se ai tempi si chiamava Colossi Clan ho dovuto cambiare nome, per chi ha già visto il video sa perché è comunque un video abbastanza vecchio Se vi interessa sapere perché è andato indietro Quindi ragazzi vi volevo solo dire che oggi appunto è un anno che sono su Youtube, è passato veramente bene, sono felice e niente spero di passare altri anni con voi Quindi ragazzi questo è tutto il video, vi volevo solo fare gli auguri e ringraziarvi Quindi da Ares è tutto, bella